Ok, noi andiamo lassù. Quella è Marciana e noi andiamo sopra Marciana, forse. Ok, saliamo sul Monte Capanne, 1019 metri. Guardate il posto. Ok, dobbiamo prendere una cabinovia un po' vecchia. Adesso vedrete. L'ho già appresa una volta. Sono 20 minuti di salita con le gambe a penzoloni, però ne vale la pena. Dallassù in cima si vede tutta la città, lago toscano, pianosa, il giglio, capraia, si vede tutto. È davvero molto bello. Adesso dovremmo vedere mia moglie. Intanto siamo a Marciana, nella parte più alta dell'isola d'elva. Molte capanne. La testa del pesce, per capirci. Non hai visto una cabinovia così? C'è sempre una prima volta. Salire un po' al po' 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 Ok ragazzi, aggiornamento. Siamo sulla cima del Monte Capanne. Quella è l'antenna televisiva, fantastico, 1019 metri, e ditemi se vi sembra di essere su un'isola, ne vale davvero la pena, 20 minuti di gabbietta, ma ottimo, ottimo lavoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.